Adesso c'è la certezza dei dati. Gli ortaggi e la frutta del Veneto sono migliori della media nazionale perché sono coltivati con buone pratiche in un ambiente sano. Lo dicono le analisi di uno studio condotto da professori dell'Università di Padova e di Verona e della WBO, Associazione Internazionale della Biodiversità, che ha sede a Verona. I dati sono stati presentati in anteprima al McFruit di Rimini, Salone Internazionale della Frutta e della Verdura. Per due anni sono stati analizzati suolo e acqua di 200 aziende e sono stati esaminati 24 prodotti, 18 ortaggi e 6 tipi di frutta, i principali prodotti del Veneto. I risultati sorprendentemente positivi, suolo, acqua, verdura e frutta sono risultati di qualità decisamente migliori rispetto alle tabelle medie nazionali, dati migliori rispetto a quelli di riferimento. Al progetto Caratterizzazione Qualitativa dei Principali Prodotti Ortofrutticoli Veneti e del loro ambiente di produzione, hanno contribuito AOP Veneto Ortofrutta e Opo Veneto, associazioni di ortofrutticoltori. Cesare Bellò, direttore di AOP Veneto Ortofrutta e consigliere delegato di Opo Veneto. Opo Veneto è in prima linea, ma è in prima linea semplicemente per un motivo, che il consumatore vuole avere un prodotto di qualità legato a un territorio di qualità e questi sono i risultati che portiamo oggi. Un bilancio, un bilancio, Cesare Bellò, di questo Macfrutt, visto da voi del Veneto, di Trevisiani particolare? Il Veneto con questo Macfrutt si è conquistato una posizione di privilegio e il bilancio, a mio parere, è ottimo. È una partenza, ma è una partenza che traguarda il 2020, perché da qua partirà la capacità di internazionalizzare il settore ortofrutticolo italiano. Da questa indagine, da questo progetto, che cosa emerge? Beh, intanto siamo riusciti a caratterizzare gran parte degli ortaggi tipici del Veneto e in genere posso dire che il livello di qualità è molto elevato. A cosa è dovuto questo livello elevato di qualità secondo lei? Beh, è dovuto sia alle competenze degli operatori agricoli, degli agricoltori e anche dall'ambiente di coltivazione. Un esempio della qualità degli ortaggi e della verdura prodotti nel Veneto lo si è visto al Macfrutt di Rimini, proprio negli spazi di AOP Veneto Ortofrutta e di Opo Veneto, realizzati in coordinamento con l'Usi a Fertile Terra. Uno stand che è stato sicuramente tra i più visitati e i più gustati, che si imponeva per luminosità, eleganza e ricchezza espositiva. Grande movimento, una presenza continua di operatori nazionali e internazionali, contatti molto promettenti, bilancio sostanzialmente positivo, a Rimini si è fatto centro. C'è grande affluenza di persone di una certa importanza per noi, quindi clienti e fornitori che si arricchiscono di contatti e di informazioni. Chiaramente oggi ci stanno dando soddisfazione perché vediamo che l'interesse c'è e soprattutto in questo piccolo, ma al stesso tempo grande stand di AOP Veneto, sta dando movimento, sta creando, come potete si può notare, interesse soprattutto nei nostri prodotti. Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, una delle più belle ville venete, è tornata ad ospitare Casius Veneti, la più bella e completa rassegna di formaggi veneti. Un'edizione record, questa del 2015, in gara ben 380 formaggi. Una straordinaria immagine che dà la misura di quanto siano cresciuti i formaggi veneti in termini di quantità e soprattutto di qualità. Oggi sono pronti ad affrontare con autorevolezza il mercato estero. Superare le frontiere è una necessità, se si vuole crescere, ha detto il presidente Luca Zaia inaugurando la rassegna concorso. E' anche perché la maestria dei produttori veneti ci permette di avere un bel biglietto da visita per confrontarci in senso positivo con il mondo. Casus Veneti può diventare Casus Veneti World, cioè mondo, e quindi avere anche il coraggio di affrontare grandi sfide, grandi confronti, grandi dibattiti con i formaggi più importanti a livello nazionale e a livello internazionale. I cittadini da noi ci aspettano questo, quindi una grande mostra di formaggi mondiale e internazionale direttamente qui. Una splendida manifestazione del gusto veneto, oltre 20.000 visitatori, la presenza delle più belle latterie del Veneto, la soddisfazione dei promotori. Sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan e il presidente di Apro Love, associazione dei produttori di latte del Veneto, Terenzio Borga. Questi formaggi hanno un disciplinare, spieghiamo i veneti cosa è disciplinare, vuol dire c'è una certificazione che sono fatte totalmente con latte veneto, quindi i nostri 3.400 produttori che naturalmente sono certificati, sono controllati e danno un latte di alta qualità e quindi un formaggio di grande eccellenza. Formaggio di grande eccellenza, presidente Borga. Beh, credo che ormai sia risaputo che le produzioni migliori sono le nostre. Prova ne sia che le migliori manifestazioni sono qua nel Veneto, perché è vero, nelle altre regioni fanno qualcosa, ma fanno più mercati che concorsi veri e propri. A tutti i concorsi nei quali noi andiamo a partecipare, i nostri formaggi vincono le categorie, si stancano di invitarci perché le qualità nostre sono sicuramente le migliori. Quindi ancora un appello ai consumatori, consumate veneto, consumate sano e rimarrete sicuramente contenti anche sotto il punto di vista gustativo. Sempre festosa la consegna delle medaglie, ben 5 d'oro sono state conquistate dalla Latteria Vicentine, 2 medaglie d'oro e 5 d'argento sono andate alla Latteria Soligo. Sono state consegnate ben 38 medaglie d'oro ad altrettante categorie di formaggi. Hanno fatto la parte del Leone i caseifici della provincia di Treviso, seguiti dai Vicentini. Caseus Veneti con questa edizione ha dimostrato di rappresentare al top i valori della tradizione dell'arte casearia veneta, che è un'autentica ricchezza del territorio. E già si parla di Caseus Veneti World, un evento che uscirà dai confini regionali per farsi nazionale e internazionale. Le condizioni ci sono, c'è il prodotto, c'è il corale impegno delle istituzioni, dei produttori e delle associazioni che li rappresentano. Dunque si può. Ci siamo intanto spostati nel magazzino dove sta maturando il nostro oro di maglia. sono sempre con Francesco Zordan, ecco. Qui è un bel patrimonio qua dentro. Assolutamente sì, qui è il nostro, diciamo, il piccolo cavo di latteria vicentina dove mettiamo a stagionare il nostro prodotto dopo che il casaro l'ha trasformato in formaggio. Qui può rimanere da, diciamo, dagli otto mesi fino ad arrivare anche ai due o tre anni per raggiungere il massimo della sua maturazione. Quanti mesi ha questo, che si chiamerà prestissimo, oro di maglia, che sarà prestissimo sul mercato? Questa forma che stiamo per tagliare ha appena sei mesi. È un formaggio ancora, diciamo, fresco per la tipologia, però è solo da quest'anno che l'atteria vicentina ha puntato su questo tipo di prodotto. E allora vediamo come sta nascendo questo bambino, no? Proviamo, speriamo che sia stata una scelta fortunata tagliare questa forma. Ecco qui, stiamo aprendo. Ed ecco il nostro giovane oro di maglia. Oro di maglia. Posso solo dire che è veramente bellissimo. Cioè l'occhiatura è bella, la pasta è uniforme. Mostriamolo bene, mostriamolo bene. Eccolo qua. Le caratteristiche, Francesco Zordano? Le caratteristiche deve essere un formaggio compatto, perché è un formaggio che deve durare nel tempo. Che questo deve, cioè più tempo passa e più acquista sapore. Le caratteristiche è un formaggio a pasta compatta. L'occhiatura deve essere piccola e inregolare. Uno o due occhietti solo su quello che riguarda la pasta. E il gusto deve essere intenso. Con il passare del tempo acquista il gusto di frutti come la nocciola, la noce. E ti lascia un retro gusto, cioè un retro gusto, e lascia in bocca un gusto proprio di frutta secca. Cioè questo dovrebbe essere l'armonia che ti dà e soprattutto il sapore e l'odore del pascolo delle montagne. Ci fermiamo un attimo per parlarvi con la CIA di Venezia della vendemmia che è alle ultime battute. Si sorride tra i vigneti. Una vendemmia d'oro abbondante e di elevata qualità. Il tempo è stato benigno. Ci sono tutte le promesse per ottimi vini. La raccolta dell'uva 2015 è alle ultime battute ormai ed è tempo di bilanci. Che facciamo tra i vigneti pregiati dell'area dell'Isompra Maggiore e del Piave. Con vignaioli della CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori. Qui siamo a Portogruaro, nell'area dell'Isompra Maggiore. Uve semplicemente meravigliose. Ultime battute della vendemmia 2015 questa, no? Sì, ormai siamo arrivati alle varietà più tardive. Adesso stiamo raccogliendo il Cabernet Sauvignon ed il Cabernet Franc. E con queste si concluderà la vendemmia di quest'annata. L'uva com'è stata? È stata un'annata decisamente sopra la media. Con una buonissima insolazione. L'uva è molto sana. Questi sono grappoli di Cabernet Franc, leggermente spargoli, ma molto sani, molto belli. In questo momento hanno una maturazione ottimale dal punto di vista degli zuccheri e dell'acidità. Per cui quest'oggi, con una bellissima giornata ai sole, abbiamo deciso di entrare a raccoglierli. E adesso li portiamo in cantina per il capitolo conclusivo. Qui siamo nella zona dell'Isompra Maggiore. Qui siamo nella zona dell'Isompra Maggiore e della Doc Venezia. Che si sovrappongono in quest'area. E questo è proprio all'interno del triangolo dell'Isom Classico, che è la zona più rinomata, diciamo, dell'area dell'Isompra Maggiore. Ecco, sarà effettivamente alla fine una vendemmia d'oro con vini d'oro? Sicuramente. È una zona avvocatissima per il vino, per cui riusciamo ad ottenere una buona qualità con costanza negli anni. Quest'anno forse è un'annata superiore alla media. Da queste uve è un vino battezzato 29. Un numero quasi magico, ricco di significati. È un marchio, è un marchio, è il marchio 29, un marchio che abbiamo costruito, che abbiamo creato noi per la nostra azienda agricola, azienda vitivinicola. 29? 29. Dialetto Veneto. Dialetto Veneto attribuisce territorialità al marchio e sostanzialmente nasce come omaggio ai nostri genitori. Perché 29 è una parola composta nel vostro caso. Esatto, esatto. VIN, TINO, VE. Lo si può accogliere anche dall'aspetto grafico della divisione del termine VIN, TINO, VE, che significa VIN de TINO de Venezia. TINO era nostro padre, quindi è sostanzialmente un omaggio ai nostri genitori, quanto mia madre è del 29, per ringraziarlo di tutto ciò che ci hanno dato. Insomma, qui c'è tutto, c'è il numero. C'è il numero, c'è la territorialità, c'è la famiglia. C'è il dialetto Veneto. C'è il dialetto Veneto e c'è il vino, soprattutto. E questo vino com'è? Questo vino è un vino... che cresce, che si sviluppa, che si forma con i tempi naturali della vinificazione e dell'affinamento e della maturazione. Sta crescendo il vigneto dell'area Lisombra Maggiore, vini DOC e vini DOCG, una viticoltura di qualità che ha radici profonde nella tradizione di questa terra, ma che nel contempo si sta fortemente innovando e sviluppando. La più avanzata vitivinicoltura abita anche qui. Ci siamo spostati intanto tra i vigneti del fiume Piave, terra di rossi di forte carattere. Promettono bene queste uve, una vendemmia che darà soddisfazione. Enrico Casarin, direttore Cantine Meola e Roncade, Gruppo Vivo, viticoltori Veneto Orientale. Ultime battute della vendemmia, qui abbiamo, che uva abbiamo qua? Allora, questa è un'uva baccarossa, raboso, l'ultima uva che viene raccolta nelle nostre zone, un'uva che era molto diffusa in questo territorio, ma la stiamo riscoprendo perché è un'uva che si adatta molto bene ai nostri terreni, si ottengono degli ottimi vini, sia rossi che rosati. Gli umori dei vignaioli in questo momento alla conclusione di questa vendemmia 2015? Beh, è stata una vendemmia molto buona. Già dalle prime uve che sono entrate in cantina, quindi parliamo di pino bianco, pino grigio, chardonnay, per poi passare le uve glera, atea, a dare il prosecco e le uve a baccarossa come il merlot e cabernet, si è potuto constatare un'ottima sanità delle uve, gradazioni zuccherine molto buone e una buona resa in mosto. Dopo sicuramente è stato favorevole anche il periodo climatico che si è verificato durante le fasi vendemmiali, buone escursioni termiche, buon soleggiamento durante il giorno, ha permesso di far sì che durante le fasi di vinificazione si sono potuti ottenere dei prodotti molto fini, con profumi floreali, fruttati, sia per quanto riguarda i vini bianchi che per i vini rossi. Lei ha parlato di vivo, cos'è questo vivo? Allora, il gruppo vivo nasce nel 2012 dalla fusione di due grossi gruppi, cantine produttori riuniti del Veneto orientale, a cui facevano parte cantina di Meolo, Iesolo, Sandonà, Portogruaro, Pra Maggiore, Torre di Mosto, Roncade e Motta di Livenza e cantine produttori riuniti di Campo di Pietra. Quanti etondri voi esprimete complessivamente? Noi lavoriamo, la forza del nostro gruppo è sicuramente il quantitativo d'uva lavorata, parliamo più di 500.000 quintali d'uva lavorata annualmente. Quanti etolitri di vino? Oltre 400.000 etolitri di vino. Un vigneto considerato modello, quello dei fratelli Gerino e Gabriele Scarabelle di Musile di Piave. Ed ecco un bellissimo grappolo di raboso, di uva rabosa. Possiamo dire che siamo sulla zona del Piave, quindi il vitigno raboso è uno dei vitigni più coltivati. Le caratteristiche del raboso sono di avere un grappolo di dimensioni molto elevate, con acini pronunciati abbastanza grossi e una caratteristica particolare è quella di avere il racchide che si divide in due biforcazioni formando una specie di coda di rondine che vediamo qui appunto. Ecco, quando è che incomincieremo a raccogliere quest'uva? Allora quest'uva in questo momento è in fase ancora di maturazione, sarà vendemmiata all'incirca tra di una settimana, dieci giorni, perché appunto è il vitigno più tardivo che c'è nella zona qua del Veneto. Come va il raboso in questo momento? Il raboso del Piave, no? Allora, come prezzo alla vendita non è abbastanza buono, perché purtroppo vanno soprattutto i vini precoci, come i Pinot e come il famoso Prosecco. I vini rossi in generale soffrono un po' di crisi. Noi comunque abbiamo deciso di puntare sul raboso perché è un vitigno autotono, è un vitigno della zona, ti permette di diversificare anche le epoche di raccolta, perché altrimenti si perde un patrimonio. Per i vini qui della zona del Piave, la vendemmia 2015, come è stata, come si sta concludendo? Allora, si sta concludendo in base alle aspettative, perché già dalla primavera eravamo partiti col piede giusto, infatti rispetto all'anno scorso sono stati eseguiti molti meno trattamenti in campo e siamo arrivati all'epoca della vendemmia con una molto, molto sana rispetto all'anno scorso. Il tempo vi ha sorriso? Esatto, quest'anno sì finalmente. Qual è il discorso? Anche durante la fase di maturazione e la fase di raccolta ci sono avute belle giornate con una piovosità modesta e quindi le uve già sane sono permesse di accumulare zuccheri, di accumulare colore e di portare un buon prodotto nei vari opifici. Qui, in questo vigneto biologico di 90 di Piave, si raccoglie l'uva a mano. Anche qui uve molto belle e promettenti, che faranno sicuramente dimenticare la brutta annata 2014. Sentiamo a proposito Angelo Cancellier, responsabile della CIA, zona di San Donato di Piave. I nostri soci sono soddisfatti della vendemmia di quest'anno, una vendemmia ottima dal punto di vista quantitativo e anche qualitativo. Oggi abbiamo visto degli esempi di aziende vitivinicole ottime, sia nella zona dell'Isone Pramaggiore che qui dove ci troviamo nella zona del Piave. Questo è un ulteriore dato che la vite è una delle ultime produzioni che nelle nostre zone danno un margine di reddittività elevato. Sempre più operatori stranieri visitano questi vigneti del veneziano, dai quali esce un vino molto apprezzato, di qualità riconosciuta. Ne abbiamo incontrato un gruppo, proveniente dagli Stati Uniti dalla Florida, in una cantina di 90 di Piave. Noi amiamo il vino, è molto delizioso. Bellissimo, sì. Molto, molto buono. Excelente vini. Questi qui sono arrivati attraverso la strada dei vini del Piave, no? Credo sia arrivato, signor Richard, e credo sia arrivato attraverso la strada dei vini del Piave, comunque attraverso il circuito del turismo, che ha a che fare anche con il movimento turismo del vino, comunque collegato anche alla strada dei vini del Piave. Tanto che prima eravamo con loro, da un nostro altro socio, che è un caseificio qui vicino, e quindi gli stiamo facendo fare un percorso nel nostro Piave. Da un lato un vigneto carico di uva rabosa, pronto ad essere vendemmiata. Dall'altro un campo di soia che presto sarà raccolta. L'annata agraria 2015 va verso la conclusione. Ci fa il punto il presidente della CIA di Venezia, Paolo Quaggio. Partiamo dal vigneto sicuramente, per quello che riguarda il comparto vitivinicolo, è assolutamente un'annata positiva. Da un lato per la produzione, sicuramente in aumento rispetto all'anno scorso, che è stato un anno deleterio, ma anche dal punto di vista qualitativo, che è sicuramente un'annata molto molto valida. Per quello che riguarda poi invece magari i seminativi, la soia, stanno cominciando le prime raccolte adesso, per cui non ci sono ancora dati certi o quantitativamente validi per quello che riguarda la soia. Per quello che riguarda il mai, sicuramente una diminuzione della produzione, perché è stato anche seminato meno. In certe zone è diminuita anche la capacità produttiva per ettero, per cui questo ha insistito sul calo della produzione. Il neo più grosso è che, nonostante tutto, il prezzo non è ancora remunerativo per i nostri agricoltori, per cui si sperava in un'annata sicuramente migliore per quello che riguarda il mais. Altri nei, purtroppo, legati soprattutto al comparto autotecnico, quindi latte, carne, avicoli, coniglio in testa, in cui i prezzi, a parte forse il coniglio che c'è in una leggera ripresa, sono ancora decisamente al di sotto della soia di redditività. Per quello che riguarda invece, non so, reparto ortofrutta, luci ed ombre, alcuni prodotti sicuramente hanno avuto un'annata abbastanza buona, altri prodotti, tipo le pesche, per esempio, è stata un'annata dall'inizio alla fine decisamente deleteria per quello che riguarda il prezzo, per cui la speranza di alcuni agricoltori di recuperare un'annata pessima come quella dell'anno scorso in parte è andata delusa. Torniamo nel magazzino delle laterie vicentine con Francesco Zordano dove sta maturando l'oro di Maiga, un formaggio che sarà prestissimo lanciato sul mercato. Un formaggio che sta maturando, questo abbiamo detto, no? Quanto manca perché questo formaggio sia veramente buono, pronto da gustare? Diciamo che per essere pronto da gustare a questo formaggio manca ancora 5-6 mesi di stagionatura per raggiungere il primo step di maturazione. Dopo lasciandolo stagionare sempre di più, questo guadagnerà sempre più sapore e diventerà sempre più buono e sarà un formaggio da contemplazione più che un formaggio. Un formaggio da contemplazione? Perché è un formaggio fatto con un latte prodotto, diciamo, nelle nostre maghe, alimentate solo con il fieno di pascolo e con l'erba di pascolo, dunque un sapore e amore sarà il futuro di questo formaggio. Quindi non ci resta che aspettare per assaggiarlo? È come tutte le cose buone, per essere buone deve essere fatte con calma e il tempo e il tempo, tempo e tempo ci dà la ragione. A che mercato puntate Francesco Zordano? A noi puntiamo soprattutto per il momento sul mercato locale, sui nostri spazi, sui nostri negozi qui nella zona e speriamo di portarlo a farlo conoscere anche all'estero perché veramente è un prodotto di nicchia e deve essere conosciuto anche in tutta Europa, speriamo. Però la quantità del prodotto è eternamente limitata che dobbiamo anche centellinare la distribuzione di questo prodotto. Però il nostro sogno sarebbe di far conoscere la poesia delle nostre maghe, diciamo, tutta Europa. Insomma, un formaggio d'élite per buon gustai? Un formaggio d'élite per buon gustai, veramente. Questa è proprio, diciamo, la sua strada, il suo futuro, diciamo. Questo dovrebbe essere il suo futuro di questo formaggio. E chiudiamo questa nostra puntata dalle latterie vicentine qui da Bressanvido con, come sempre come ho detto a Veneto, Francesco Zordano. Lei ne conosce uno, ne viene uno così a portata di mano? Ma credo, a Puenta e Formaio, ma a casa sua. In sostanza si può vivere anche da puore di però a casa propria, essere padrone di se stessi. Assolutamente, verità, verità assoluta, anche perché diciamo che questo è proprio il futuro della nostra società. E con questa filosofia tipicamente a Veneto noi vi salutiamo. Appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima. In collaborazione con... Ascotrade, liceo e gas, energia.